Il Vangelo della Settimana, prima domenica di avvento In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Fate attenzione, veliate, perché non sapete quando è il momento È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai Suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino Fate in modo che, giugendo all'improvviso, non vi trovi addormentati Quello che dico a voi, lo dico a tutti Vegliate Grazie a tutti Grazie a tutti